Eder, Mech, Pallister Scomparsa il 4 agosto, intorno alle 19, da una casa famiglia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, la 12enne Benedetta Cristofari. La ragazzina si sarebbe allontanata mentre si trovava nel centro estivo della struttura. Gli operatori del centro hanno subito sporto denuncia alla polizia. Dopo 48 ore senza notizie, il padre, ha diffuso sui social media un appello con il suo numero di telefono e la fotografia della figlia, con cui chiede notizie a chiunque la possa aver vista. Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia, la denuncia l'avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi. Appena ho saputo la notizia mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri, ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, oggi ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami. Le indagini sono affidate al commissariato di Tarquinia con il supporto della questura di Viterbo. Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste per chiarire la dinamica della vicenda e ritrovare la giovane. Una delle piste seguite è che la ragazza si sia allontanata di sua spontanea volontà. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Edel Metallica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.